Ora perché vuoi uccidermi? Io non... io non voglio ucciderti! Che faccio senza di te? Torno a fregare i trafficanti mafiosi? No, no. No! No, tu... Tu completi me! Tu sei spazzatura, uccidi persone. Non parlare come uno di loro, non lo sei! Anche se ti piacerebbe. Per loro sei solo un mostro. Come me. E ora gli serve... Ma tra un po' Ti caceranno via.